E' una rapina E' una settimana di tempo No, no! Per aprire la fotogallery, toccare lo schermo... Chi sei? Te la senti di fare la strattista? E' l'unico modo per mettere le mani su quel quadro Ti prego, facciamo una storia insieme Una storia? Mi pare un po' esagerato Io al massimo le posso dare una botta Io soy Pablo Escobar Pablo Escobar? Lei non lo sa, io so suo fan, ho visto tutti i film Tutte le serie tv, Narcos, ma la so divorata Moroni! Serve qualcuno che si accoppi con la buzzicona Rose russe Dosino satanassa Ah già chi va? Ammazza, bravo! Ma tu hai mirato per prendere la mano? Ma che adesso lo sparo così a cazzo da cane? Ah, eh? Ma che gli stava a spiegare gli ultimi 35 anni di storia? Si si è perso niente Tu scudetti caro, tutti a uno Tutti chi? Dico tutti Francesco Ma che cazzo è?